L'incidente nella mattinata di martedì 9 aprile intorno alle 8.15 sulla strada provinciale 222 che dal comune di Rivarolo Canavese porta Castellamonte alla testa dello svincolo per Ciconio. Fa scontarsi una Smart condotta da una ragazza e una Fiat Panda. A seguito dell'impatto la Smart finita la sua corsa giù nella scarpata ribaltando e sedeggiandosi su un fianco. Mentre la Panda si è fermata a bordo caraggiata. Sul posto sono prontamente intervenuti l'elicottero dei Vigili del Fuoco Drago, l'Ambulanza del Soccorso Avanzato di Caluso, la Croce Rossa di Castellamonte e i Vigili del Fuoco di Ivrea. Fortunatamente la ragazza sulla Smart non ha riportato gravi conseguenze ed è stata trasportata in codice verde dalla base della Croce Rossa di Castellamonte al pronto soccorso di Ciriè per controlli. In lesi o con qualche contusione gli occupanti della Panda. Il sinistro è a vaglio dei carabinieri della stazione di Agliè, anch'essi presenti sul posto. Il incidente è sempre... Come mai? Non fa, non fa, non fa, non fa... Perci... Grazie a tutti. Grazie a tutti.